Alle porte del Natale la solidarietà dei pesaresi torna a bussare alle porte dello Iopra. Il 15 dicembre alle ore 20.30 presso l'hotel Baia Flaminia di Pesaro si terrà infatti la tradizionale cena di gala 2022 di Iopra. Un piacevole incontro conviviale dalla forte finalità benefica arricchita da musica e spettacoli che vedranno protagonisti il maestro Lorenzo Bavai, la cantante Clarissa Vichi, l'attore Cristian Cinepro e il centro coreografico di danza. Il tutto arricchito dalla presentazione della direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi. Durante la serata noi avremo dei momenti di danza, di canto, dei momenti di recitazione con grandi artisti che comunque rappresentano Pesaro oramai in giro per tutta Europa se parliamo del maestro Bavai anche per il mondo e quindi avremo un noto pianista avremo Clarissa Vichi come cantante, avremo Cristian Cinepro direttamente dal film Colibri e da mille altre cose, musical e quant'altro e poi avremo il nostro centro coreografico che per l'occasione mi ha regalato questa coreografia che sinceramente ho voluto a tutti i costi e il costo del biglietto è ad offerta, siamo già a tante tante prenotazioni siamo quindi felici così e oltre alle offerte delle persone ci sono stati tanti sponsor che hanno gratuitamente dato il loro aiuto, il loro contributo e quindi vi aspettiamo il 15 speriamo che tutto vada bene e ci sarà anche la nostra dottoressa Emanuela Rossi che dirigerà la serata. Abbiamo preparato una coreografia a cura del maestro Luciano Melandri Una vita splendida di Tiziano Ferro quindi è già un bel messaggio anche per questa serata Ci saranno i ragazzi, i vostri allievi? Ragazzi allievi della scuola che ormai lavora da tantissimi anni e ha un bel successo e speriamo che anche la serata sia di vostro gradimento Siamo circa 180 persone l'anno dei quali molti li portiamo avanti anche se il protocollo dice che dovremmo tenerli in assistenza un anno noi non li abbandoniamo mai perché possono vivere di più due anni, guarire, quindi noi non li abbandoniamo mai Lavoriamo 24 ore su 24, Pasqua e Natale, lavoriamo sempre Noi rispondiamo con telefoni, telefonini privati o dell'associazione Siamo sempre presenti Tengo a dire che nella nostra Ollus o DV abbiamo tre medici, tre infermieri di grande capacità ed esperienza Abbiamo l'assistenza dello studio RADI per la fisioterapia che offriamo ai nostri pazienti La psicologa, psicoterapeuta, dottoressa Michele Occhelli per il sostegno a familiari soprattutto perché sono loro che ci cercano E adesso abbiamo creato anche una cosa nuova Un'estetica, ma non estetica per la bellezza ma per quanto riguarda le ferite, i gonfiori delle braccia Io parlo così volgarmente perché i termini tecnici probabilmente sono altri Però diamo un'assistenza completa, completa, con la massima soddisfazione di tutti E mi ripeto, il nostro motto è, me lo sono creato io, professionalità e cuore, cuore e professionalità Ci teniamo in maniera particolare a sostenere l'attività dello Iopera e a supportare anche questa bella festa che si farà appunto giovedì all'hotel Flaminio Sarà un momento conviviale ma sarà anche un momento per riflettere sulle situazioni tristi che ci sono anche se è Natale e sarà anche un momento per ascoltare buona musica con il maestro Bavai e con Clarissa Vicky Le realtà come l'Oiopera hanno bisogno di risorse economiche perché si occupano di assistenza domiciliare per i malati oncologici e quindi devono comunque pagare quelli che sono gli infermieri o i medici che vanno a domicilio Sono realtà molto importanti perché consentono alle persone appunto che hanno questa grave malattia di poter rimanere a domicilio, a casa, di fianco ai propri cari grazie appunto a questa assistenza domiciliare che in realtà come l'Oiopera riescono comunque a garantire Grazie